Signor Di Matteo, lei è stato uno dei primi a non credere all'attendibilità di Scarantino, ci può riferire quello che pensa su Scarantino e quello che pensa sulla strage di Via D'Amelio? Ieri sera ho sentito, c'era Fiammetta, era la figlia di Paola Borsellino, ho ascoltato un po' e ho visto che alla fine ho visto che ha fatto pure il nome mio, io questo l'ho detto 25 anni fa, no oggi, 25 anni ho avuto un confronto con Scarantino, il quale quando questo ha finito di parlare io gli ho detto guardate che questo non fa parte di nessuna organizzazione, questo più di rubare ruote di scorta delle macchine o radi di macchine non ha fatto, o prendere qualche pacchetto di sigarette di contrabbano, questo non sa, io ve lo dico, poi se mai non mi volete credere chiamate altre persone, ci ho fatto chiamare la Barbera, ci ho fatto chiamare Cangemi, ha risultato tutto quello che ho detto, guardate che questo non l'abbiamo visto mai, questo non fa parte di nessuna cosa, già 25 anni fa si poteva prendere un'altra piega il processo, invece dopo 25 anni si parte di nuovo, anche lo Stato poi dice hanno speso, tutti buttate un sacco di miliardi, perché 25 anni devi fare un processo e poi buttarlo tutto per terra. Perché non l'hanno creduto? Non mi hanno creduto, e questo lo dovremmo chiedere a quelli che mi hanno interrogato, poi io c'era il questore andando dalla Barbera, questa situazione che lui tutti i giorni mi veniva a trovare alla DIA, io stavo alla DIA in via Colò di Rienzo, e allora tutti i giorni mi prendeva andiamoci a fare una passeggiata, e allora tutto il sistema, il problema del questore, la Barbera che doveva trovare una persona come me, allora ci faceva guarda te la stampo e te la do, per la strage di via da me, cioè la Barbera, ma la Barbera sta con noi, devi cercare qualcuno, informati, informati che ci può essere. Cioè la Barbera, ovviamente parliamo del poliziotto, la Barbera, le chiedeva aiuto per trovare un collaboratore di giustizia, un collaboratore perché giustamente... Che potesse essere fondamentale come lei è stato per la strage di Capaci. Perché poi non capiscono una cosa, cercava questa cosa, poi diceva ma da che fai? Ma che devi fare carriera, che devi fare? L'importante è trovare la verità e no. Lui era talmente fissato che doveva trovare un collaboratore come me. Per la strage veramente. Per la strage, perché ci sembra che già c'è la Barbera, poi avevo detto pure io delle cose, solo che loro non so perché non hanno creduto a questa cosa. Ma come si fa a credere a quelle parole di Scarantino? Ma io ti dico una cosa, quando io ho avuto il confronto con questa, perché sono stato il primo, io alla fine quando questo è finito di parlare, che non capivo pure neanche io che ero siciliano, non capivo quello che diceva, che lui aveva accompagnato tutte queste persone a questa riunione. Allora io ci ho detto solo, ma voi ci credete che una persona sola una volta prenda a me, una volta prende alla Barbera, una volta prende Cangemi, una volta va a prendere a Torreina, una volta va a prendere... Cioè l'ha portato tutte lui, ma voi credete a questo? Ma lui dice, io vi dico che lui ha detto un sacco di bugie, fesserie e poi mi darete ragione fra un po'. Tant'è me l'hanno dato dopo 25 anni per la ragione, si poteva fare pure a meno, no? Grazie a tutti.